buonasera buonasera a tutti di nuovo con noi lunedì sera ormai in casa in casa centro di terapia strategica stasera proprio in casa perché abbiamo anche stefano bartoli con noi che ci fa sentire ancora di più a casa e quindi intanto ti saluto ciao stefano come stai bene molto bene tu cristina come stai bene dai in recupero quindi diciamo che ce la stiamo passando meglio piano piano usciamo dall'isolamento spero tra qualche giorno e quindi direi che andiamo andiamo meglio anzi un abbraccio a tutti quelli che stanno magari attraversando periodo di quarantena sono a casa sappiamo che è un momento particolare allora stefano prima di partire con quella che sarà veramente una diretta interessante sotto tutti i punti di vista perché hai scelto un tema veramente particolare affascinante quindi non vedo l'ora di ascoltarti ti presento per chi ancora non ti conoscesse stefano bartoli è psicologo coach direttore operativo del centro di terapia strategica e personal manager di giorgio nardone e oltre a questo è docente cultore della materia leadership presso l'università luis ma anche docente di tecniche di colloquio clinico quindi insomma stai aggiungendo anche sempre di più expertise in questo campo molto interessante anche coautore di alcuni testi l'ultimo che hai scritto che ce l'ho proprio qua perché stavo riguardando alcune cose il peso delle apparenze con lara 27 perché la prima impressione è quella che conta che ha avuto un grandissimo successo che vi consiglio veramente di prendere di leggere salutiamo anche lara nostra collega validissima e e come dico sempre tu ormai in questi due anni viaggi un pochino meno ma di solito ti vediamo sempre un po in giro per il mondo a fare le tue docenze ti invidiamo nelle tue trasferte però tanti ti conoscono già perché sei stato nostro ospite diverse volte stasera hai scelto un tema veramente interessante che è la costruzione della realtà quindi io prima di partire saluto un po di persone sai Stefano che qui faccio sempre un po gli onori di casa quindi ciao Amedeo saluto Nicoletta Fabrizio Claudia Maria Tiziana Marina Stefano Moera Emanuela insomma tutte tra amici e colleghi e persone che ci seguono salutiamo tutti allora beh questa mia domanda un po' insolita rispetto al solito ma mi sembra che sia importante hai scelto un tema veramente quasi filosofico un po' filosofeggiante no come mai questa scelta prima di addentrarci? allora ho scelto questo tema dopo tanto che comunque ci sono esperienze strategiche perché come dire era necessario avere un pubblico educato e pronto a questo tema qua che ovviamente avrà cercherò di non dare troppo come dire di non cadere troppo nel metafisico nel filosofico e di restare come dire sulla pratica sull'aspetto pratico però il concetto di realtà il concetto di come si crea la realtà il concetto di quante realtà ci sono di come il soggetto è costruttore della realtà che poi può gestire creando veramente per esempio un successo o può drammaticamente subire quindi è come dire facciamo un salto in quello che viene chiamato costruttivismo radicale che comunque è come dire una delle dei pilastri proprio fondamentali della costruzione anche terapeutica della realtà quando lavoriamo con le persone o quando lavoriamo nell'ambito della performance e quindi come dire la scelta è stata pensata molto ve lo dico perché potevamo andare su temi più pratici più tecnici però come dire i tempi erano maturi per dare una sorta di come dire per scivolare un po in riflessioni un pochino più introspettive che però vedrete hanno proprio un'azione operativa pragmatica estremamente forte nonostante possono apparire all'inizio un pochino ripeto metafisiche sotto alcuni punti di vista potremmo dire che questa diventa una diretta strizza sinapsi ok beh però devo dire ora vedremo come va come andrà ma chi ci segue chi ci ascolta in realtà è molto interessato anche a capire proprio un po' da dove parte tutto un po' anche quelle che sono proprio le strutture quindi secondo me hai scelto veramente un tema molto bello e penso che ce la caveremo dai e da questo punto di vista quindi entrando un po' più nello specifico che cos'è la realtà andiamo proprio no su veramente quasi sul filosofico quante realtà ci sono ce n'è una c'è la nostra c'è quella dell'altro cosa ci dici rispetto a questo allora quando parliamo di realtà di costrutto di realtà è sempre molto complicato dare una definizione precisa e poi lo vediamo lo vedremo come mai e per comprendere il concetto di realtà dovremmo iniziare a associarlo al concetto di conoscenza e già questo come dire può aprire un po' di scenari perché parliamo di realtà come ma lo associamo alla conoscenza perché ciò che il soggetto può esperire di quello che è la realtà altro non è ciò che il soggetto stesso costruisce di quella percezione che ha della realtà creando la sua stessa realtà quindi va a conoscere ciò che lui stesso crea rispetto a quello che ci può essere capire che sono concetti che necessitano un po' di spiegazione e anche di tempo di gestione quindi quando parliamo di realtà dovremmo iniziare veramente a associarlo al concetto di conoscenza cosa posso conoscere? e questa è una domanda particolare che necessita di una spiegazione ovvero, e questo già Paul Watzlawick lo stava spiegando ciò che il soggetto conosce dipende dal percorso con cui è arrivato a conoscerlo quindi la qualità di ciò che noi possiamo conoscere della realtà dipende da come ci siamo arrivati cioè qual è stato il percorso che mi ha permesso di conoscere quella cosa facciamo un esempio molto semplice in un rapporto di coppia abbiamo un livello di conoscenza quindi un livello di percezione dell'altro, della realtà dell'altro e perché, pensateci, quando due persone si legano insieme e hanno tempo per conoscersi, per viversi anche se poi le cose iniziano ad andare male nel rapporto diventa difficile lasciarsi abbiamo sempre questi dilemmi interiori non sto bene ma non riesco a lasciarli perché il percorso che è stato costruito quindi quel tipo di realtà che è stata costruita ha permesso di accedere ad un livello di conoscenza dell'altro è un livello di conoscenza di se stessi rispetto all'altro è un livello di conoscenza della realtà di quello che è stato creato come rapporto totalmente unica quindi c'è stata una sorta di investimento ok? come dire energetico, chiamiamolo così di arrivare a quel livello lì di costruzione della realtà con l'altra persona sempre restando su questo esempio qua vedete una persona e avete un tipo di percezione dell'altro quindi vi create una sorta di conoscenza dell'altro visiva che solitamente coincide con una sorta di ciò che vedo dell'altro dell'apparenza dell'altro proprio dell'estetica se questa prima, che poi è la prima impressione questa prima impressione che è una realtà è una realtà percepita dell'altro inizia a essere, come dire a stimolare l'interesse noi ci avviciniamo e conosciamo qualcosa di più dell'altro e quindi modifichiamo quel tipo di realtà che avevamo all'inizio creandone un'altra che coincide con una conoscenza diversa quando approfondisco ancora di più posso trovare elementi che mi piacciono e se mi piacciono e mi coinvolgono ho una nuova realtà ancora ma proprio una realtà vissuta quello che poi si chiama proprio il sentimento l'innamoramento o al contrario se trovo degli elementi che non mi piacciono che non sono viabili in epistemologia c'è proprio questa parola Ernst von Glaser la utilizzava sempre una dinamica deve essere viabile cioè percorribile c'è qualcosa che non mi piace che non è in linea con quello che io sento ho quel tipo di conoscenza ho quel tipo di realtà nuova che mi porta a prendere decisioni diverse quindi è fondamentale proprio associare all'inizio come concetto la realtà con la conoscenza ma non conoscenza nozionistica attenzione non è la conoscenza di quanti libri qui vedete dietro di me tanti libri non è quello il concetto di conoscenza anche un animale nel momento in cui interagisce con la realtà che costruisce la conosce e quindi vedete bene che qua si apre una riflessione particolare ovvero il soggetto quindi noi ognuno di noi costruisce la realtà e quindi la conoscenza ok? addirittura potremmo alcune volte sovrapporre i termini tra realtà e conoscenza sulla base dell'esperienza che vive questo porta alla deduzione che il soggetto non può essere svincolato svincolato dalla propria esperienza quindi il soggetto stesso è esperienza della realtà che vive e coincide con la realtà che costruisce quindi alla domanda quante realtà ci sono? infinite a seconda della prospettiva che noi andiamo ad assumere rispetto un dato rispetto a un'interazione che tipo di conoscenza posso accedere alla quale posso accedere che mi permette una percezione diversa della realtà se noi assumiamo come dire la prospettiva di Pascal di Blaise Pascal diventa molto semplice tutta questa sorta di spiegazione complessa ovvero esistono tante realtà quante sono i punti di vista che assumiamo e qua come dire dobbiamo iniziare un pochino a semplificare questa parte che è già complessa quindi se iniziate a come dire avere il vostro cervello che inizia a fumare fa parte del gioco per questa l'abbiamo fatta questa diretta dopo due anni di esperienze strategiche perché l'avessimo fatto come apertura dei giochi tutti quanti sareste scappati ok e invece questo può come dire trovare una congruenza anche rispetto a tutte le altre dirette che gli altri colleghi hanno fatto quindi noi potremmo definire sempre riprendendo gli insegnamenti del professor Nardone e da Paul Vazlavi che comunque da tutta quella tradizione di costruttivismo radicale la realtà potremmo dividerla in due grandi livelli in due grandi ordini diciamo così una realtà di primo ordine che è l'oggetto in sé ciò che accade la foglia dell'albero che cade ok poi abbiamo una realtà di secondo ordine che è la conoscenza di quel tipo di realtà di primo ordine ovvero l'attribuzione di significato e quindi di significato conoscitivo esperienziale ok che noi attribuiamo alla realtà di primo ordine quindi come dire il famoso esempio che semplifica questa spiegazione abbiamo il bicchiere arrivato a metà con un liquido sapendo già che definire un certo contenitore bicchiere è già un'attribuzione di significato però per semplificare Cristina te hai un bicchiere adesso in mano a metà con un liquido ci saranno persone che vedano il bicchiere mezzo pieno e lo vedranno altri mezzo vuoto e questo non è abbastanza interessante però perché quello che è molto interessante è ciò che viene adesso i soggetti che vedono il bicchiere mezzo pieno quindi vivono quel tipo di esperienza quel tipo di realtà e conoscono il bicchiere riempito a metà di acqua come mezzo pieno avranno tramite quel tipo di esperienza una serie di atteggiamenti di comportamenti di reazioni a quel tipo di realtà che saranno costruiti sul fatto che il bicchiere è mezzo pieno se invece il solito bicchiere lo vedo mezzo vuoto i miei comportamenti le mie reazioni saranno diversi perché ho conosciuto in maniera diversa quell'elemento lì e cosa accade? a seconda del tipo di reazione crea nuovamente una nuova realtà perché una reazione diversa mi genera una nuova esperienza e questo fa comprendere il fatto che esistano veramente infinite realtà che sono realtà puramente soggettive del del soggetto in relazione alla sua interpretazione chiamiamola così ma non interpretazione razionale interpretazione esperienziale ciò che vive della realtà di primo ordine facciamo altri esempi ok? per semplificare immaginiamo un contesto professionale aziendale immaginate una persona che entra al lavoro e vede due colleghi parlare tra di loro che vi sbigliano appena entra i due smettono di parlare un'interpretazione di quel tipo di esperienza è stavano parlando male di me se il soggetto vive come il reale sapendo che però adesso è una costruzione cioè io conosco quell'elemento e deduco che stavano parlando male i miei atteggiamenti seguiranno quel tipo di percezione e quindi probabilmente la persona che entra in ufficio e vede i due che parlano male di lui non sarà così solare non sarà così aperto magari si chiude ora pensate i due soggetti vedano l'altro soggetto che è più scontroso più nervoso più chiuso cosa faranno saranno aperti o si chiuderanno si chiuderanno a loro volta in quel momento lì la nostra persona la conferma che quel tipo di conoscenze che era un'interpretazione era corretta ma in realtà l'ha creata ha creato qualcosa su una creazione se al contrario la nostra persona entra e vede i due bisbigliare esattamente come prima ma lo interpreta come i due stanno organizzando una festa sorpresa per me perché fra poco è il mio compleanno ok gli atteggiamenti saranno diversi il soggetto sarà più aperto più disponibile e su quel tipo di reazione gli altri reagiranno in maniera più aperta più disponibile ed è per questo che spesso il professor Nardone cita sempre questa frase no? cita sempre questa frase ogni soggetto è colui che crea la propria realtà poi ci sono soggetti che questa realtà che creano riescono a gestirla e ci sono soggetti che questa realtà la subiscono in ogni caso siamo condannati a crearla perché un mito da sfatare è il fatto di essere neutri è impossibile essere neutri il soggetto e qua entriamo in un concetto altrettanto importante non può essere svincolato dall'esperienza e da ciò che osserva quindi già l'atto di osservare un fenomeno o qualcosa modifica la percezione e l'esperienza quindi questo è anche logico l'osservazione non può essere fatta se non da chi osserva quindi colui che osserva non può avere un accesso oggettivo alla realtà perché lui è filtro di quella realtà che costruisce questo riprende proprio la fisica quantistica a piene mani la cibernetica colui che osserva la realtà la modifica ma non in termini proprio di modificazione alcune volte sì ma non in termini di modificazione strutturale la modifica perché l'esperienza che vive non può essere scevra dalle sue percezioni e quindi è fatta da filtri interpretativi conoscitivi tant'è e questo si capisce molto bene tant'è che se voi avete avuto un'esperienza particolare tipo un'esperienza particolarmente bella ciò che andrete a vivere dopo sarà bello o comunque avrà molte più possibilità di essere bello perché voi sarete tranquilli felici se avete vissuto qualcosa di negativo tutto il resto acquisisce una connotazione negativa che ovviamente può cambiare quando il famoso detto alzarsi con il piede sbagliato se iniziamo male tutto il resto va male arriviamo la sera e diciamo mamma mia che giornata è stata una giornata pessima ma in realtà è l'esperienza precedente che ha modificato le percezioni dell'esperienza che stavamo vivendo vedete noi non possiamo essere scevri da noi stessi non possiamo astrarci da noi stessi noi siamo la somma dell'esperienza che facciamo in quel momento lì e quindi a seconda di come si vive l'esperienza si crea la realtà la cosa magica di tutto questo è il fatto che basta cambiare prospettiva quindi basta guardare ciò che per esempio può essere uno svantaggio cambiare il punto di vista di osservazione per vedere che è un vantaggio o viceversa vedere quello che all'inizio può essere un problema come una grande opportunità però attenzione il fatto di vederlo di percepirlo di conoscerlo da un'altra prospettiva innesca la reazione differente poi la reazione differente che innesca la nuova realtà vi faccio un esempio letterale che quando l'ho letto mi ha proprio oltre mi ha fatto sorridere ma proprio di gusto ho detto geniale allora se leggete un libro che si chiama le lettere di Berlick di Lewis e ve lo consiglio tra l'altro sarà una delle letture che quindi faccio spoiler sarà una delle letture vedrete che in questo libro qua sono una serie di lettere di Berlick che è un diavolo esperto che scrive a suo nipote insomma a un altro diavolo chiamato Malakola che è un diavolo novizio ok e gli insegna come praticamente distrarre gli uomini dal fare le cose buone quindi gli insegna come a far peccare l'essere umano no a distrarlo dall'elevazione spirituale e in una di queste lettere mi sembra la quarta ora non mi ricordo quale Malakola quindi il novizio il diavolo giovane dice bene se ci sono le guerre noi stiamo facendo un ottimo lavoro perché la guerra porta a desolazione devastazione morte quindi stiamo creando come dire stiamo facendo bene il nostro lavoro come diavoli e Berlick gli fa cambiare completamente prospettiva ma in una maniera geniale e gli dice beh sembrerebbe che in effetti le guerre siano per noi vantaggiose e fino a un certo punto lo sono perché le persone sono disperate sbagliano peccano eccetera ma è proprio quando sono nel massimo della disperazione che iniziano a sperare nel nostro nemico cioè in Dio quindi più la guerra diventa aspra più la guerra diventa mortale più che l'uomo si avvicina a colui che non si deve avvicinare il nemico che è Dio e capite che è tutto al contrario quindi Berlick gli suggerisce anziché fargli fare le guerre dovresti farli vivere bene dovresti farli immergere nel lusso in una qualità di vita materiale altissima farli non avere problemi perché in questo modo non sentendo la necessità di non sentendo più la sofferenza la necessità di lottare con se stessi si allontanano dal nemico quindi si allontanano da Dio ma capite che è geniale come cambiamento di realtà percepita è un insegnamento che Berlick dà a mala cola però è da un punto di vista tecnico per la giornata per la serata di stasera è proprio calzante perché ha fatto vedere ciò che poteva sembrare in un modo totalmente in un altro e diventa logico diventa reale perché conosco quella cosa in un modo diverso quindi alla domanda cosa è la realtà quante realtà ci sono beh ci sono infinite realtà a seconda della prospettiva che riuscite ad assumere quindi come dire noi siamo veramente costruttori di ciò che viviamo quotidianamente o distruttori o distruttori in senso no e quindi qui mi verrebbe da chiederti un po' l'ultima domanda prima di passare ai consigli di lettura e anche al dibattito che ti avverto Stefano che stanno già arrivando scusate delle domande per cui abbiamo stimolato queste sinapsi oltre ad averle strizzate quindi apri un po' il campo a quello che è anche il tema degli autoinganni no quindi il fatto di crearsi una realtà che non è sempre poi penso funzionale quindi vabbè senza andare ad anticipare quello che poi può essere quello che ci racconterai ora ma ti chiedo cosa sono gli autoinganni e le credenze perché penso che sia molto importante rispetto a quello che ci stai dicendo eh allora ovviamente senza entrare troppo nel tecnico perché anche qua come dire su questi concetti che abbiamo appena accennato potremmo starci veramente a parlare in congressi che durano tanti giorni perché sono veramente infiniti le sfumature le accezioni gli studi fatti su questo l'autoinganno Elster lo definisce come la capacità dell'uomo di avvicinare i suoi desideri alla propria realtà semplificando con alcuni esempi ormai come dire fatti e strafatti ma rendono sempre bene l'idea come dire la madre che vede il figlio ok tornare a casa con gli occhi rossi o con veramente le borse sotto gli occhi identificherà quel tipo di realtà ok quella realtà di primo ordine e vivrà quel tipo di realtà di primo ordine attribuendo ok il fatto il fatto che magari suo figlio ha lavorato tanto o poverino era come dire sotto stress perché al lavoro doveva fare tante cose se questa sorta di conoscenza interpretativa di quella realtà si struttura diventa una realtà creduta che può diventare proprio un filtro quando in realtà potrebbe essere che questo figlio anziché essere stanco dal lavoro ha utilizzato qualche sostanza ma se la credenza diventa rigida di quel tipo di realtà proprio l'accesso a un'esperienza diversa di quello che è diventa difficilissimo diventiamo proprio ciechi a nuove possibilità ciechi ad aperture diverse questo da una parte è naturale perché noi siamo in un certo senso la somma anche delle credenze che abbiamo con credenza attenzione non è solamente come dire non va interpretata con credenza religiosa non è credo in Dio credo in Allah credo in Buddha non è questo è il credere a qualcosa che mi permette un certo tipo di reazione questo il concetto di credenza affonda le sue radici proprio anche nella religione buddista come costrutto per un buddista a certi in certi tipi di ragionamento vi direbbe che voi potete accedere solo alla realtà esperienziale di questo momento quindi siete davanti al vostro computer davanti al vostro cellulare magari in casa vostra e credete che la pizzeria dove andrete domani esista in questo momento qua ma voi non siete certi attraverso i sensi che la pizzeria o l'ufficio dove andrete domani il bar dove andate a fare colazione domani ci sia in questo momento voi lo state credendo sulla base di una serie di esperienze e appunto nel mondo buddista qualcuno vi direbbe potrebbe essere che non c'è più potrebbe essere che tutto il mondo è scomparso se siete rimasti solamente voi con la vostra casa perché noi possiamo accedere a quel tipo di realtà creata da noi stessi solamente attraverso i sensi tutto ciò che è fuori da questo diventa la nostra credenza ed è anche la credenza in realtà diventa poi quando diventa strutturata il filtro attraverso il cuore interpretiamo la realtà ora qua dovremmo aprire una parentesi importante anche sul concetto di la creazione perché per adesso abbiamo parlato di deinterazione tra il soggetto l'esperienza e la realtà che crea però la differenza fondamentale è che a differenza degli animali noi esseri umani parliamo abbiamo una capacità linguistica molto evoluta ed è proprio il linguaggio che crea il mondo cioè crea il mondo che noi viviamo e più un soggetto prova a descrivere la propria sensazione o il proprio vissuto paradossalmente più lo altera perché lo canalizza in strutture linguistiche tant'è che proprio von glassesfer assume il fatto che la costruzione del mondo di una persona deriva dalla lingua madre cioè crescere con un'impostazione linguistica crea concetti di interpretazione crea autoingagno credenze e questo è molto particolare perché in effetti se qualcuno di voi te Cristina parli benissimo un'altra lingua se qualcuno di voi domina non solo come vocabolo ma proprio come formamenti su un'altra lingua può fare un esperimento molto carino se ha una situazione anche un problema e prova a descriverlo in più lingue vedrà che quel problema quella situazione si modifica cambia cambia nelle sue percezioni e questo è pazzesco pensate che in Russia quando vado a insegnare in Russia ho scoperto questa cosa qua non c'è la categoria linguistica tra persuasione e convincimento non ce l'hanno non c'è proprio non esistono le due parole quindi quando noi e per noi è chiarissimo la differenza tra convincimento e persuasione cioè è proprio uno dei nostri temi hanno strutture proprio interpretative e di gestione completamente diversi quando noi andiamo là a insegnare loro si devono adattare dicendo convincimento 1 e convincimento 2 perché non esiste la parola mancando quella parola manca un concetto manca una struttura di realtà questo però è completamente diverso in altri tipi di lingue per esempio il greco soprattutto il greco antico è una lingua estremamente affascinante perché ha più nomi per indicare la stessa realtà vi faccio proprio un esempio il termine vita in greco ha due parole con significati completamente diversi per esempio uno è bios e capite bene che derivano anche tantissime parole no? biologia no? e cos'è il bios? è la struttura della vita che potremmo dire materiale l'organizzazione di come siamo fatti estremamente importante e poi vi è un'altra parola che è zoe zoe nel greco antico vuol dire vita ma non è il bios è l'essenza della vita che il soggetto esperisce cioè la sua interiorità la sua vita interiore chiamiamola così ok? l'essere vivo non organicamente ma come proprio essere come essenza e avere queste due categorie linguistiche crea già due inquadramenti diversi concettuali esperienziali di credenza che possono portare autoingagni della vita perché un soggetto potrebbe avere un bios come dire basso ok? pensate a una persona che è infortunata o che ha una disabilità ha oggettivamente un bios più basso ma può avere una zoe completa può essere estremamente felice vi faccio un altro esempio noi viviamo in questo momento qua non inteso proprio l'esperienza strategica ma proprio inteso concettualmente la vita come un'esperienza temporale cioè nel momento in cui nasciamo sempre in termini più orientali iniziamo a morire facciamo il conto alla rovescia il tempo sempre in greco ha due parole kronos che è il tempo materiale cioè il tempo proprio che può essere contato ok? il tempo che scorre che può essere numeralizzato e poi abbiamo kairos kairos che è uguale sempre il tempo ma è l'esperienza del tempo che facciamo che può essere completamente diverto faccio un esempio un'ora di lezione noiosissima un'ora di vi ricordate magari alle superiori all'università c'erano dei professori che quando iniziavano a parlare era un dramma perché il tempo non passava quindi immaginate 60 minuti di lezione noiosissima sperando che non sia questa di stasera ok? ha cronologicamente quindi ha come kronos esattamente 60 minuti come quando due innamorati stanno insieme per un'ora ma come kairos sono due realtà completamente differenti i 60 minuti il kronos quindi i 60 minuti della spiegazione noiosa sono infiniti i 60 minuti in un rapporto di bello condiviso passano in un estante quindi il kairos crea una dispercezione temporale del kronos se voi giocate a scacchi questo lo sperimentate benissimo se giocate a scacchi e vi immergete nel gioco passano i minuti le mezz'ore se giocate con qualcuno bravo ok? ma sembra che sia iniziato in quel momento quindi il kairos è completamente differente dal kronos sono due realtà completamente differenti nonostante ci sia una solita realtà che le accomuna vi faccio un altro esempio ancora spero di non tediarvi sempre in greco ormai restiamo su questa zona qua ok? esistono due parole in realtà esistono più di due tre sicure però per semplificare prendiamo ad esempio due per la parola amore una è eros che non è barbaricamente pensato solamente come l'eroticità l'eros è la tendenza è la tensione verso qualcosa da un punto di vista proprio sensoriale quindi per esempio l'amore ok? tra due soggetti quella tensione che uno ha verso l'altro e poi esiste un altro termine agape che vuol dire sempre amore ma è un amore globale immenso infinito che non ha necessità di come dire consumarsi in un modo proprio materiale come l'eros è l'amore più spirituale è l'amore più globale tant'è infatti che su questi due termini Papa Benedetto XVI in un'inciclica le mette insieme dice non si possono separare del tutto l'eros aiuta agape agape aiuta eros però vedete che semplicemente con questi tre esempi di vita tempo e amore con questa spiegazione abbiamo degli inquadramenti di conoscenza della realtà in maniera completamente diversa chi non lo sapeva chi non ci aveva riflettuto non aveva fatto esperienza di realtà di questi concetti una volta assimilati possono far cambiare le prospettive in maniera totale veramente pensa al concetto di Bios e Zoe sono concettualmente sono due cose opposte ma sono la solita cosa e questo vi fa portare a dei ragionamenti completamente differenti e questo ci permette poi chiudo ok dei ragionamenti che come dire noi possiamo conoscere per canali differenti perché se io valuto la mia realtà attraverso un canale tipo il Bios allora devo avere dei parametri ma se io introduco anche il concetto di Zoe posso avere altri parametri pensate che c'è questo studioso Stephen Golt veramente un impestomologo molto importante che ha coniato un termine che si chiama Noma ok ovvero not overleaping magisteria ovvero magisteri non sovrapponibili se noi abbiamo chiare le differenze linguistiche per l'essere umano perché è la cosa su cui noi ci muoviamo noi stiamo parlando adesso ok abbiamo categorie linguistiche chiare possiamo evitare di sovrapporle e la sovrapposizione quando diventa come dire troppo complessa o del tutto sbagliata può creare delle realtà che noi subiamo quindi ci sono delle strutture estremamente complesse che però poi nella pratica diventano semplici cioè l'avere la possibilità di vedere da prospettive diverse una situazione amplifica le possibilità e amplificando le possibilità si amplificano le realtà il dramma è che nessuno sa quale sarà quella vera perché anche la verità è un altro concetto su cui potremmo parlare una persona sincera è colui che dice ciò che conosce come vero che non è detto che sia la verità quindi capite che è molto complesso e allo stesso tempo è ciò sono le strutture sulle quali noi viviamo queste cose in realtà noi le sperimentiamo ogni secondo bene penso di aver distrittato le conosceremo anche infatti ora forse le conosceremo anche un pochino meglio allora vado sui titoli ci sono molte domande quindi poi lo sai che dopo tutte le serie ti dico ti dobbiamo trattenere quindi andiamo sulle domande ma prima un paio di consigli di lettura che ci dai allora quello che vi ho anticipato ve lo faccio vedere è di Lewis le lettere di Berlick ok molto molto carino veramente istruttivo qui mi era stata suggerita questa lettura in estate l'ho letto adesso quindi sono stato come dire un po' procrastinato un po' però veramente merita tantissimo poi non posso non consigliare Paul Watzlawick e la realtà della realtà ok e tutte queste cose che ci siamo detto le trovate lì dentro in maniera alcune volte più dettagliata alcune volte più semplificata però insomma è un libro fondamentale l'altro libro quindi ne suggerisco tre ok è un libro nuovo molto semplice nella sua lettura scritto molto semplicemente addirittura come dire anche apparentemente un po' banale come struttura di scrittura ma estremamente fruibile ed è questo si chiama Oltre il possibile ok Oltre il possibile c'è anche una serie su un film su Netflix che parla di questo libro ed è la storia di questo nepalese che riesce a fare i 14 monti sopra gli 8000 a scalare le 14 montane sopra gli 8000 metri in pochissimo tempo ma la cosa interessante oltre la performance e l'ho letto per questo perché lavorando nel mondo della performance mi interessava sapere quello che aveva fatto ve lo suggerisco perché ovviamente viene molte volte spiegato diciamo proprio tradotto il suo inner game cioè il suo il suo dialogo interiore cioè quello che si raccontava per avere lo stimolo per andare un po' più avanti un po' più avanti sapete che salire a certi a certi livelli non è solo un discorso di bios nel senso non è solo un discorso di allenamento fisico se non c'è un certo tipo di atteggiamento mentale certe performance non ci arriviamo per quanto possiamo essere allenati e quindi è molto interessante di come lui si ristruttura la realtà per riuscire a fare questa impresa bello 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 io sai che i tuoi consigli di lettura poi li ho sempre letti quindi te prendo nota e allora andiamo alle domande Stefano perché ce ne sono tante allora fammi recuperare un attimo l'inizio allora tanti saluti salutiamo anche Jeff Jackson che sarà con noi a febbraio visto che lo nomino da un anno e mezzo il nostro caro amico Jeff ciao Jeff da Washington terrà una diretta anche lui e lo salutiamo e allora Mariela chiedeva se ti riferivi al concetto del mito della caverna di Platone prima quando stavi parlando cioè dell'esperienza della doppia fenditura ora io mi sono persa il pezzo in cui l'ha scritto però ti giro la domanda se è qualcosa che ti riattiva non mi riferivo in maniera diretta al mito della caverna di Platone anche se ovviamente il mito della caverna di Platone è simbolicamente il fatto che qualcuno è riuscito ad accedere a un tipo di conoscenza quindi in realtà lui sapete il mondo delle idee e nonostante possa urlare a coloro che non ce l'hanno questo tipo di accesso a quel tipo di conoscenza gli altri non si svegliano non vengono fuori quindi non mi riferivo direttamente a questo però come concetto ma lo possiamo prendere sapendo che come dire l'essere umano attiva la propria conoscenza a livello simbolico quindi noi siamo simbolicamente ok proiettati a interpretare la realtà e il mito della caverna di Platone è proprio questo Mirella dice ci riporta al clinico la realtà che costruisce il soggetto che tende alla depressione da dove apprende il suo stile di realtà questo soggetto eh eh allora qua entriamo in un mondo particolare perché se io in questo caso iniziassi a dire il soggetto prende la sua interpretazione lo stile della realtà da questo questo e quest'altro andrei a violare la logica di tutto quello che ho detto in questo momento perché perché due soggetti che vivono la stessa esperienza possono avere due reazioni completamente differenti però completamente cioè è esempio noto che in un incidente stradale una persona non ha niente e l'altro rimane traumatizzata ha un po' traumatico da stress ma l'incidente è quello o i due o i due non so fratello e sorella due fratelli due sorelle che vivono con la stessa educazione in maniera quasi simbiotica hanno due derivazioni completamente differenti della propria vita quindi da dove è sempre una domanda molto rischiosa poi è chiaro che ci sono delle idiosincrasie culturali che muovono i nostri processi cioè nascere e crescere in Kerala Kerala è al sud dell'India una regione al sud dell'India ti crea dei processi interpretativi della realtà diversi che nascere e crescere non so in Nebraska è chiaro questo permette un accesso alla realtà e di conoscenza della realtà completamente diverso vi faccio proprio un esempio proprio pratico un italiano quando nevica e immaginate proprio tutta la neve in terra che cosa vede? la neve cioè vede bianco un eschimese non vede bianco riesce a catturare le varie tonalità del bianco perché? perché ovviamente le varie tonalità identificano che la neve può essere calpestata o una neve dove si affonda ma com'è possibile che questo soggetto abbia questa capacità percettiva perché l'ambiente le esperienze hanno permesso la costruzione ok di interpretazione di questi dettagli di queste sfumature che diventano chiare mentre un soggetto che non ha avuto quel tipo di esperienza e quindi di conoscenza non può avere ma questo è anche la differenza per esempio tra diciamo un professionista e un altro il famoso occhio clinico cosa vuol dire? è una somma di esperienza di conoscenza che non è solo nozionistica ripeto ci deve essere perché se non c'è un po' di conoscenza anche nozionistica non si va da nessuna parte ok ma non è solo quello è quel tipo di accesso alla realtà che basta una sfumatura per catturarla una persona meno esperta o comunque una persona che si sta allenando si sta studiando un certo tipo di pratica lo può vedere ma perché non ha avuto quell'esperienza di realtà di riconoscimento quindi dare come dire delle definizioni tranchant dicendo deriva da questo e quest'altro vuol dire violare il fatto che ogni soggetto esperisce la realtà in maniera completamente individuale avete visto spesso questo nelle nostre dirette ok perché non abbiamo risposta perché come vi ha detto Stefano proveniendo dal mondo del costruttivismo radicale effettivamente andremo proprio contro tutto ciò che è questo che ci ha raccontato stasera allora Valerio dice buonasera cos'è che fa la differenza nel come percepiamo le esperienze passate mi sembra che le une generino le altre senza arrivare mai al principio allora è una domanda molto interessante perché ci sono una diciamo ci sono più fattori che riescono a unirsi o separarsi che ci permettono certi tipi di percezione di percezione allora ovviamente qua poi diventa estremamente anche soggettivo perché come dire chi nasce con un talento pensate a un giocatore di calcio nasce talentuoso diciamo così ok quel tipo di accesso all'interpretazione di quella realtà che gli permette di fare delle cose particolari che un altro non può fare come dire potremmo dire che è fortunato però se non si allena se non costruisce ok e potenza quella parte quella parte rimane lì addirittura diminuisce quindi la capacità di creare realtà chiamiamole funzionali che il soggetto può gestire anziché subire è squisitamente soggettiva però ha delle parti che si possono anche imparare ad esempio un certo tipo di studio permette la creazione di certi tipi di ragionamenti e questo è fondamentale allora quando viene detto l'università non serve a niente faccio un esempio ok qui quindi prendo una posizione che io solitamente non prendo però prendo una posizione tante persone dicono l'università non serve a niente è vero sotto alcuni punti di vista nel senso sicuramente non è come dire il più delle volte non è come dire quell'accesso operativo al lavoro quindi non è fai l'università e sai lavorare per saper lavorare bisogna fare anche altre cose non è detto che nemmeno ti dia un certo tipo di cultura nozionistica però sicuramente cosa fa ti forza a passare gli esami perché se no non li passi e ti costruisce un certo tipo di approccio alla gestione di una situazione quindi ti creano forma mentis poi ognuno alla propria ok però questo te la forma te lo crea cioè ti dà la possibilità di crearti delle strutture ciò che praticate nel quotidiano le discipline che praticate gli sport che praticate le letture che fate vi influenzano non è possibile non essere influenzato io dopo oltre 20 anni di arti marziali e di Aikido ok la mia struttura di inquadramento della realtà è viziata da questa pratica non è possibile che non sia viziata e sono contento che abbia quel filtro estremamente contento se invece di fare quello avessi non so giocato a golf la mia percezione generale sarebbe diversa e questo fa anche la differenza tra le persone differenza proprio come soggettività che permette degli accessi diversi dell'interpretazione dei canali diversi se vogliamo diciamo riassumere e più che altro dare un piccolo suggerimento io vi suggerisco di andare sempre in profondità nelle cose di non rimanere in superficie e prendo un'altra posizione vi sconsiglio caldamente di perdere il vostro tempo studiando leggendo o ascoltando coloro che non sono andati in profondità in ciò che vi dicono l'esempio che fece anche un post tempo fa di questo io sono poco social però ogni tanto quando ho tempo lancio lì qualcosa e ovviamente avendo ripeto una buona un buon cronos diciamo così e anche kairos di tempo vissuto nel mondo della cultura giapponese grazie alle arti marziali grazie a una tonnellata di libri letti grazie all'essere stato allievo diretto per tanto tempo di due maestri giapponesi di cui uno ci ho vissuto insieme un anno ho avuto la possibilità di fare esperienza ogni tanto parlo di alcuni concetti giapponesi credo di poter dire qualcosa su questo se invece qualcuno che vi fa un video vi racconta qualcosa perché ha scritto su google parole giapponesi e vi ripete qualcosa a livello nozionistico può dire anche la cosa giusta ma lì non c'è profondità non c'è quella qualità di conoscenza che dicevamo all'inizio cioè voi conoscete la vostra qualità di conoscenza deriva dal percorso che avete fatto per accedervi se il percorso che avete fatto per accedervi è 5 minuti su google ok cercando su un blog parole giapponesi è chiaro che il livello di conoscenza non è superficiale non c'è ok quindi il mio suggerimento è sceglietevi le persone dalle quali veramente poter imparare ciò che insegnano e qui verrebbe bene la domanda di Enrico che dice e quando non è sufficiente sapere che costruiamo la realtà che ci costruiamo la realtà e che siamo vittima di esse come si fa bella questa domanda perché me la puoi ripetere e quando non è sufficiente sapere che ci costruiamo la realtà e che siamo vittime di essa come fare cioè quando il sapere non ci salva non ci salva perché se fosse sufficiente sapere il meccanismo e con la coscienza quindi con il ragionamento la cognizione poterlo modificare non esisterebbero più problemi non ci sarebbero più situazioni da dover gestire quindi una cosa importante è saperlo l'altra cosa importante è saperlo gestire che non è un apprendimento solo di conoscenza ma un apprendimento proprio operativo pratico ripeto una cosa è imparare a giocare a scacchi leggendo un libro una cosa è giocare a scacchi una cosa è fare un'arte marziale sul tatami una cosa è poi andare a fare un combattimento sono due mondi differenti nonostante sia il solito mondo quindi in quel caso se non usciamo da una trappola state attenti perché anche se vi rendete conto che siete dentro una trappola psicologica una psicotrappola ok riprendendo anche l'insegnamento del professore ve ne rendete conto ma non riuscite a trovare la via d'uscita ma fate la cosa più saggia più strategica più intelligente e più normale del mondo chiedete aiuto anche perché il bello se posso aggiungere scusa se ti interrompo è che ci sono un sacco di tecniche senza entrare nel tecnico che poi in realtà nell'esperienza concreta ci fanno vivere questo cambio di prospettiva e sono meravigliose penso a alcune tecniche senza stare a entrare nello specifico a stratagemi come il creare dal nulla che in realtà poi ci fanno vivere nel concreto quello che tu ci hai raccontato stasera che però è diverso dal saperlo scusa se mi sono attivata su questa cosa perché poi avendolo provato anch'io in prima persona prima di diventare terapeuta come paziente come persona questa grande potenza che ha il poter cambiare prospettiva nel concreto cioè provatelo perché è veramente fantastico hai fatto bene perché questo mi permette di dare un altro piccolo come dire mattoncino magari per costruire una conoscenza un pochino diversa da quella che è il senso comune guardate che i cambiamenti avvengono per cambiamento di sensazione non per cambiamento esclusivamente di sentimento quindi il vivere una realtà diversa che corregge ciò che non sta funzionando adesso è perché lo avete sentito lo avete proprio sentito nelle sensazioni nelle emozioni quello che poi viene chiamato esperienza emozionale correttiva cioè un tipo di esperienza puramente non ragionata ma sentita ok quell'emozione che corregge poi la percezione che ti fa vivere una realtà diversa quindi se non avviene spontaneamente se non avviene attraverso ciò che voi provate a fare insistere e soprattutto ragionarci sopra guardate che ve lo complica il problema diventa ve lo ripeto più rapido più strategico più intelligente più normale chiedere aiuto e questo guardate mi avete dato la possibilità di dichiarire un punto fondamentale l'essere umano si è evoluto perché si è aiutato il chiedere aiuto guardate che fa parte dell'evoluzione dell'essere umano i più grandi personaggi della storia non hanno fatto tutto da sé hanno sempre chiesto aiuto supporto condivisione perché più prospettive creano realtà differenti e magari anche se una persona è estremamente capace e diventa cieca ad una possibilità perché è possibile basta che un'altra gliela prospetti che si sblocca è il teorema dell'indicibilità di Gödel il pesce dentro l'acquario non può conoscere l'acquario in cui nota va visto da fuori l'acquario per capire com'è vi ripeto veramente se voi leggete le biografie dei grandi sia moderni sia antichi grandi imperatori Alessandro Magno Giulio Cesare tutti avevano sempre una sorta di entourage di consul di una sorta di squadra di coach e psicologi potremmo dire in termini moderni ma voglio dire se guardiamo anche le religioni nell'induismo ci sono una serie di dei non ce ne sono uno poi ci sono i livelli le gerarchie coloro che fanno un po' la loro parte Shiva Vishnu ok Ganesh Cristo stesso ne ha selezionato i dodici per farsi dare una mano quindi se avete un blocco o qualcosa non va provate se non funziona chiedete aiuto è l'esperienza di realtà più interessante che si può fare ok allora vado avanti vediamo un po' vuoi che vabbè io dico poi dimmi tu quando vuoi che salutiamo perché qualcuno forse si lascia indietro comunque la realtà di primo ordine si fonde con ragazzi perdonatemi vedi la nebbia post virus mannaggia anche poi è bellino perché qualcuno mi dice che bello che stai meglio perché lunedì scorso Stefano ero veramente in condizioni pietosa allora la realtà di primo ordine si fonde nella realtà di secondo ordine e da qui nasce la realtà di ciascuno di noi pare difficile che ci sia unicamente una o l'altra realtà esatto esatto anche la schematizzazione di primo e secondo ordine è una semplificazione interpretativa perché quella di primo ordine è connaturata dal fatto che noi l'abbiamo vissuta e percepita e vista e quindi come abbiamo detto il soggetto che osserva non può essere separato da ciò che osserva quindi realtà di primo ordine e di secondo ordine è una classificazione che ci serve per capire di semplificazione ma è una cosa sola mentre dentro ci sono tante cose Giacomo dice posso chiedervi per piacere se mi potreste indicare un libro strategico che approfondisce il tema sulla predisposizione a costruire la realtà in modo globale o analitico mi piacerebbe inquadrare i miei punti di forza e in parallelo allenare e conoscere meglio le altre cose che possa prendere ne conosci uno per caso mi verrebbe da suggerire un libro interessantissimo che ha proprio un capitolo su questo che parla proprio della percezione globale analitica e le differenze proprio tra le due infatti sono le due percezioni principali quella percezione globale e la percezione analitica noi la orientiamo in termini di performance ma sono due percezioni della realtà e questo libro è oltre se stessi quello che ho avuto l'onore il mio primo libro che ho avuto l'onore di scrivere col maestro con Giorgio Nartone bene qualcuno dice mi hai riportato alle sottigliezze dei classici filosofici dell'università ragazzi stasera non so più leggere perdonatemi sarà la mia la mia vulnerabilità che mi rende più simpatica stasera va bene voglio le parole va bene allora il nome del primo libro l'abbiamo già l'autore di oltre il possibile sicuramente lo trovate ma se vuoi rimostrare la copertina allora si chiama il nome provo a interpretarlo è Nimsday Purja che è questo bene ora ci sono tante domande su alcuni consigli su come gestire la realtà in modo diverso ci fermiamo a quello che hai detto prima cioè no nel senso in generale proviamo quindi alcuni consigli per aiutarci a gestire la nostra realtà disfunzionale saluti dal Messico intanto saluti così generale ci sono un paio di domande sul fatto di in generale ci fermiamo a quello che ci hai detto prima cioè no no però questo no rispondo dicendo che non posso rispondere semplicemente per un fatto che ogni situazione che è una realtà va analizzata nel dettaglio ok e nelle sue sfumature quindi anche se esistono come posso dire realtà similari ok che possono essere accumunate da come dire esperienze o comunque ridondanze in ogni caso il consiglio è quello di analizzare molto bene quel tipo di realtà ok e da lì trovare quali sono le realtà possibili che permettono di trasformare quella realtà disfunzionale in una realtà funzionale però non c'è posta onivoca perché se no sarebbe nuovamente la pasticchina ok che risolve tutto e non ce l'abbiamo quindi la cosa è ogni volta anche se esistono classi di problemi che sono come dire che hanno delle caratteristiche ridondanti tra di essi è come se fosse sempre una cosa nuova quindi ogni realtà è unica perché ogni soggetto è unico e quindi ogni soggetto è unico crea realtà uniche anche se possono essere simili Carmen dice non c'è però il rischio di cadere nel determinismo e nel relativismo comunque mi fa piacere vedere Cristina un po' grazie Carmen allora è chiaro ora vi faccio permettetemi di farvi una un giro di una strizzata sinaptica il fatto che tutto sia una realtà costruita quindi potremmo dire che non esistono realtà oggettive diventa un'oggettivizzazione diventa una realtà oggettiva quindi contraddice se stessa nel momento in cui lo afferma è come dire tutto autoinganno allora anche l'autoinganno stesso è un autoinganno il che si potrebbe dire che quindi se tutto è un autoinganno compreso il concetto dell'autoinganno allora l'autoinganno può anche non esistere ma nel momento in cui non esiste diventa un autoinganno quindi è chiaro che quando assumiamo posizioni estreme andiamo in un relativismo che contraddice se stesso all'origine se tutto è relativo il relativo diventa assoluto ok e nel momento in cui diventa assoluto se tutto è relativo cioè l'assoluto diventa il fatto che tutto è relativo se questo diventa così capite bene che l'estremo relativismo diventa assolutismo e quindi essendo realmente relativo vuol dire che ci sono delle dinamiche assolute che magari non possiamo percepire o che se percepiamo non potremmo sapere se sono quelle lì oppure altre io su questo concetto se volete apro una parentesi molto complessa però che poi andiamo veramente oltre il tempo ma oltre anche proprio il colloquio più divulgativo di queste esperienze strategiche però è questo cioè ci sono delle strutture che anche se non aderiamo ad esse ci sono vi faccio un esempio se voi non avete nella conoscenza nell'esperienza nella percezione che esista un tipo di pianta in amazzonia voi vedete la vostra realtà non con quel concetto con quell'esperienza ma questa c'è esiste oggettivamente quindi il vostro percezione realtà estremamente relativa non contempla il fatto che esista qualcosa di oggettivo capite che è molto più complesso diciamo che forse per semplificare vi riporto una frase di Avicenna che è stato questo matematico filosofo persiano ok il quale una volta scrisse mancanza di evidenza non vuol dire assenza di evidenza non vuol dire perdonatemi assenza di evidenza non vuol dire evidenza di assenza cioè l'assenza di un'evidenza che non c'è di qualcosa che non c'è vuol dire che non è detto che non ci sia e che voi non lo percepite non avete avuto conoscenza di realtà quindi è molto più complesso non c'è solo l'estremo determinismo relativismo fondamentalismo sincretismo fideismo non è gli ismi sono sempre pericolosi se potremmo dirlo come una sorta di assoluto che dici vuoi che concludiamo qua lasciamo alcune domande aperte o vuoi che te ne lega qualcuno fai la domanda a loro se vogliono continuare 5 minuti 10 minuti per me va bene se no chiudiamo ce n'era una carina io ho la deformazione professionale che è Deborah che dice che strumenti dà lo psicoterapeuta al paziente per permettergli di vedere una nuova realtà allora lì abbiamo un'altra serata su questo un'altra serata in approccio strategico diciamo che siamo estremamente fortunati perché abbiamo una vasta gamma di come dire anzi grazie della domanda perché mi permette un'aggiunta quindi in approccio strategico noi abbiamo una vasta gamma di tecniche di sequenza di tecniche sequenza di manovre di protocolli che ci permettono veramente di sbloccare certe situazioni a queste va aggiunto altre tecniche e comunque strutture di comunicazione estremamente efficaci come il dialogo strategico processi di persuasione ok modalità di ristrutturazione che permettono proprio in maniera molto rapida diciamo di far osservare esperire non solo capire realtà da prospettive completamente diverse a questo io mi come dire consiglio il fatto che un buon psicologo un buon consulente in generale che aiuta gli altri a qualsiasi livello sia oltre alla parte tecnica oltre alla parte di comunicazione deve avere anche una parte del sé inteso come di conoscenza personale della realtà e di esperienza vissuta questo è sicuramente arricchente e questo è quell'elemento puramente soggettivo che permette al professionista di vedere cose diverse quindi fare esperienza permette far vivere esperienze fai sorridere Stefano perché mi ricordi una ragazza con cui sto lavorando che ha una struttura molto rigida una studentessa di psicologia e lei non voleva interagire con gli altri perché doveva studiare aveva sempre questa compulsione a studiare molto forte per poter e io proprio l'ho fatto uno shampoo un bagno di realtà dicendo ma tu pensi veramente sui libri di allenare la competenza che dovrai usare per questo certo certo che servono i libri serve tutto quel percorso ma se tu non spendi tempo con gli altri a imbastire relazioni con gli altri a parlare e questa è stata proprio una grandissima leva nel suo caso specifico ovviamente di cambiamento perché ha sentito proprio la paura poi di non avere quel bagaglio di cui stai parlando tu che è fondamentale nel nostro lavoro quindi bello che tu abbia raccontato questo perché soprattutto per chi magari ci segue anche che sta facendo il nostro percorso di formazione è importante l'esperienza la vita è ciò che vi può arricchire di più anche in questo senso anche perché riprende il primo concetto di cui abbiamo parlato stasera il soggetto non può essere scevro dell'esperienza stessa di quello che sta vivendo quindi lo psicologo il terapeuta o comunque colui che lavora quel tipo di esperienza che lui stesso vive con il paziente è lui e la sua esperienza che poi portano cioè la sua esperienza della realtà in quel momento che poi portano quel tipo di aiuto al soggetto che lo riceve e il soggetto che lo riceve è lui con la sua esperienza che ristruttura la percezione bene molte erano molto simili cioè come modificare una struttura di realtà radicata quindi domanda a cui abbiamo già potenzialmente dato in un qualche modo una risposta rispetto a quello che abbiamo già detto se vuoi possiamo concludere con quella di Enrica che mi sembra possa permetterti di dare una chiosa interessante che è quindi non esiste una realtà giusta o una sbagliata allora potrebbe esistere io non lo so nel senso non sono in grado di dire ciò che è giusto e sbagliato in termini globali però potrei dirlo di quello che io vivo nel momento presente ma è la mia percezione della realtà diciamo che più su categorie di giusto o sbagliato io andrei su categorie di ciò che vivo mi serve a migliorare a vivere bene o ciò che vivo mi serve cioè mi serve mi produce un qualcosa che in questo momento mi blocca o non mi fa avanzare queste sono come dire dal mio punto di vista gli inquadramenti un pochino più fondamentali quindi categorie di giusto o sbagliato appartengono riprendendo un po' quello che dicevamo di Stephen Gold a come dire magisteri di sovrapposizioni completamente diverse nel nostro caso non siamo non abbiamo quel tipo di credenza che ci può portare a dire questo è giusto questo è sbagliato magari questo funziona e questo non funziona questo lo possiamo un pochino più accettare in ogni caso come dire chiudiamo questa serata che abbiamo veramente esplorato a questo giro vi lascio con un piccolo ragionamento una piccola realtà diversa solitamente noi diciamo che la fantasia dobbiamo avere tanta fantasia perché la fantasia ci permette l'immaginazione ci permette di arrivare a certi punti che ovviamente la pratica al quotidiano non ci permetterebbe la famosa frase di Einstein la logica ti porta da l'immaginazione ti porta l'infinito è vero ma vi vorrei far vedere una cosa diversa ovvero siate talmente tanto aperti allo scoprire che la realtà supera di gran lunga qualsiasi immaginazione qualsiasi fantasia grazie a tutti grazie a te Stefano grazie a tutte le persone che ci hanno seguito stasera anche fino a quest'ora tarda e a questo punto come faccio più o meno sempre vi faccio anche un recall sul prossimo appuntamento che sarà lunedì prossimo con Alessandro Bartoletti altro tema molto interessante ansie indecifrabili come riconoscere strategicamente il proprio problema quindi vi aspettiamo lunedì prossimo buonanotte a tutti a presto ciao